eccoci qua anche a donare notturno anche con un tono di voce un po più smr ma eccoci qua oggi ho rivoluzionato le pagelle perché mi sembrava giusto se non giustissimo cercare di esaltare questi giocatori che sono stati dei veri e propri eroi e quindi vi dico che saranno molto particolari le vedrete da voi non inizieremo da Tiago Motta come al solito ma andremo un po in giro per il campo e anche le valutazioni saranno molto strane oggi vi chiedo una cortesia non guardate i voti ascoltatemi e basta i voti sono messi lì per pura decorazione grafica fregate bene non devono importarvi oggi non si guarda al voto ma si guarda a tutto quello che hanno messo in campo questi ragazzi partendo da Nico Gonzalez e Bremer che purtroppo hanno giocato pochi minuti e non hanno possibilità di avere una valutazione tra l'altro al loro posto sono entrati due giocatori che hanno fatto un'ottima ottima partita su Bremer un po' di apprensione quando uscirà questo video probabilmente sapremo un po' di più delle condizioni di Bremer io ho ancora una piccola piccolissima speranza nella porta a casa perché lui ha piegato la gamba e si è messo sulle ginocchia e magari per cercare di capire se era un crociato o meno gli avranno fatto la tecnica del cassetto una manovra del cassetto e non è sempre super efficace appena subito il trauma quindi incrocio le dita sperando che possano essere parole quasi sane nel momento in cui uscirà il video e non parole dolorosissime con una conferma di un crociato che sarebbe veramente eccessiva per un giocatore meraviglioso come Bremer Vlaovic voto 10 perché i due gol che fa sono una delizia uno è più bello dell'altro e in un momento di difficoltà della squadra sempre crescente e quindi Dusan complimenti, veramente complimenti perché pensare a quello che avevi attraversato in queste partite e in quello che invece hai tirato fuori nella partita più difficile della stagione io non posso fare altro che congratularmi con te e ringraziarti perché in questo momento in cui ti sei sbloccato ti sembra tutto più facile e quindi continuiamo su questa falsa riga continuo a galoppare queste emozioni perché ho visto proprio la scossa in Dusan Vlaovic continuiamo così con sesso a voto 10 perché quel passaggio sul gol dell'1-1 di Vlaovic è una meraviglia perché è costantemente una spina nel fianco a tutta la retroguardia degli avversari perché è un giocatore interessantissimo perché è un giocatore che sta benissimo già ad ottobre dopo aver passato anche un infortunio muscolare perché è una tipologia di calciatore che ci è mancata tanto negli anni perché è un giocatore che fa sempre una giocata importante e interessante perché può entrare negli ultimi minuti può entrare a pochi minuti da partita iniziata ora lo vedremo magari anche titolare ed ha sempre un contributo di altissimo livello con SESAO è stato un gran colpo di mercato e speriamo che possa essere scattato anche a cifre umane perché l'impatto che ha avuto con la Juventus è qualcosa di strepitoso Calulu voto 10 perché è vero che lui è cambiato commetto un errore sul gol dell'1-0 degli avversari ma quante chiusure importanti ha fatto Calulu all'interno di questa partita Calulu è un giocatore strepitoso, fondamentale che non è stato perfetto ha avuto le sue difficoltà in una partita difficile di suo ma Calulu ha risposto presente nei momenti più complicati e mi è sembrato davvero già un vero e proprio leader dell'elettroguardia juventina è l'ennesima ottima prestazione di Calulu e se inizio a farle anche in Champions e con così tanta continuità mi rendo conto che l'affare per il momento lo stiamo facendo alla grandissima noi Fagioli voto 10 come ve la descrivo la partita di Fagioli? senza voler esagerare io credo che sia stata la miglior prestazione di Fagioli da quando indossa la maglia della Juventus cioè io gli ho visto fare delle giocate questa sera a Nicolò che hanno ricordato dei giocatori che nel mondo del calcio hanno lasciato veramente l'impronta per quella tipologia di ruolo lì e per come interprete la partita palla sempre incolata ai piedi passaggi con anche una velocità eccellente precisione sopra ogni limite a me è sembrato un leader oggi Nicolò Fagioli veramente una partita di altissimo livello e sono contentissimo per lui dopo un anno super complicato Gatti voto 10 perché se tu entri in un momento del genere dopo esser stato uno dei migliori giocatori della Juve esserti fatto male e aver fatto della panchina subentrando al giocatore che da quando non ci sei più te è stato il migliore in assoluto e entri così in Champions League contro degli avversari così complicati come Sesco eccetera eccetera io devo soltanto ringraziarti e dirti ma quanto cazzo sei migliorato Federico non sei secondo me neanche lontano parente del ragazzo o del calciatore che era arrivato a Torino qualche anno fa ora sei veramente un giocatore completo un giocatore che anche qui mi ricorda dei grandissimi del passato e mi fa dire ma guarda un po' Gatti che cosa sta tirando fuori non so se è qualcosa di più di quello che può dare o se è arrivato a un momento di carriera che quella roba lì la può dare tranquillamente ma è stata secondo me una prestazione ai limiti della perfezione e ripeto con la mentalità da uno che nemmeno questa partita doveva giocarla e che è entrato per sopperire a un infortunio di un suo compagno di reparto complimenti nient'altro da dire Cambiaso voto 10 perché non è stata la sua miglior partita perché ci sono state anche tante letture secondo me non eccellenti perché l'ho visto a volte anche in posizioni non ottimali ma ieri in conferenza stampa Cambiaso sulla domanda in cosa devi migliorare ha detto una cosa molto importante e cioè rimanere collegato sempre attento nella fase difensiva perché è difficile rimanere sempre acceso bene quell'intervento che fa nel finale è un intervento di assoluto livello in fase difensiva quindi forse stasera si è preoccupato anche un po' di più di prestare attenzione dietro perché aveva capito che tipo di partita era il bello di Cambiaso che ha dei margini di miglioramento ancora evidentissimi eppure riesce già a fornire delle prestazioni super solide anche lui come tutti gli altri fino adesso voto 10 ma non sarà così per tutti McKennie voto 10 per lui sì quante intensità ci mette a centrocampo cioè c'è quell'azione tutta di prima dei centrocampisti fagioli in verticale per McKennie che guarda prima a destra e poi dà la palla dentro bassa a sinistra per Comenders che poi becca il palo e lì ti chiedi ma McKennie le ha sempre sapute fare queste cose tempi di inserimento sì ma quella lucidità nell'ultimo passaggio è una cosa che ha innata che ci aveva nascosto o che sta prendendo su adesso all'interno di un contesto che sembra valorizzarlo ancora di più cioè McKennie negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione in positivo importantissima importantissima ed è un giocatore che non esce più dal centrocampo di Tiago Motta ha completamente scalato le gerarchie ed è un giocatore super in forma che oggi merita la maniera titolare però in voto 10 stesso discorso fatto per Gatti per Consei Sao entrare in maniera obbligata non è mica facile cioè stasera abbiamo fatto tre cambi obbligati due infortuni e un'espulsione del portiere pure Perin entra si prepara a parare una punizione gli danno il rigore contro subisce anche quel rigore però dopo dà tantissima tranquillità e sicurezza quando la Juve riesce in maniera inaspettata prima a pareggiare poi a ribaltare la situazione e tutte le volte che la palla orbitava dalle parti di Perin ero tranquillo non tranquillo tranquillo perché ovviamente non potevo esserlo però capivo che c'era una sicurezza e che Mattia anche se non è abituato a giocare queste partite o a subentrare in queste partite si è fatto trovare pronto numero uno della Juventus non si inventa per caso Cobb Mainers voto nove fino adesso abbiamo valutato con dei voti dieci anche delle prestazioni non eccellenti Cobb Mainers è uno di quelli che mi è piaciuto meno stasera però io sono dell'idea che all'interno di una partita simile non si possa dare un voto insufficiente o più basso perché sono tutti eroi quindi come in apertura vi chiedo di ignorare il voto e di concentrarvi sull'analisi un'analisi che vedete come Cobb Mainers come il giocatore che ha riscontrato più difficoltà in assoluto all'interno di questa Juve ci sono state tante palle che Cobb Mainers poteva girare o a destra o a sinistra con i tempi giusti una giocata che poteva scegliere in maniera migliore oppure imbucare Vlaovic che aveva fatto un buon movimento e si era riuscito a smarcare dal diretto marcatore si è preoccupato quanto più di gestire il possesso palla poi è stato commovente insieme a tutti gli altri nel momento in cui la Juve è rimasta in 10 ed era andata sul 3-2 nel pressing perché poi ne parleremo quando parleremo di Tiago Motta ma tutti i giocatori sono stati davvero commoventi a partire dai due lì davanti Vlaovic e Cobb Mainers però per il resto forse una partita con una casellina in meno rispetto agli avversari il svoto 9 perché è stato sostituito ma fino a quel momento non aveva brillato Ildis mi pare fare un po' fatica in questo momento nella Juve in quella posizione lì senza degli esterni che lo vanno ad aiutare però ne parleremo un po' più nel dettaglio magari in settimana perché ho voglia di parlarvi in maniera dettagliata di un'idea che ho su Ildis e Cambiaso Savona voto 9 perché voi immaginate di fare il vostro esordio in Champions League a 21 anni quando eravate un giocatore della Next Gen fino all'anno scorso poi aggregato alla prima squadra poi diventi della prima squadra inizi a giocare con continuità in prima squadra fai l'esordio in Champions League e lo fai in una partita del genere dove dopo 10 minuti ci sono già stati due cambi per necessità e non è mica facile e non uscire da quella concentrazione lì è ancora più difficile e quindi complimenti a Savona perché poi è stato tolto nel momento più complicato della gara ma fino a quando è stato in campo secondo me la sua prestazione era comunque di buon livello Douglas Lewis voto 9 al di là del fatto che ha procurato il calcio di rigore sono state delle letture poco attente secondo me di Douglas Lewis a un certo punto ha provato a fare un tunnel a centrocampo o come quando ha scaricato la palla nella terra di nessuno e l'ha regalata agli avversari queste sono probabilmente le cose che sta pagando in questo momento questo giocatore per non partire titolare perché non mi sembra ancora concentrato al centro per cento nella partita che può fare perché lui le partite di alto altissimo livello le può fare arriverà il momento di Douglas Lewis io ne sono davvero convinto ne sono sicuro ma adesso ancora un po' indietro rispetto agli altri in queste partite qua di lotta perché lui è uno che il pallone lo gestisce molto bene ma deve avere anche le caratteristiche intorno della squadra e il momento per poterselo gestire se no diventa un giocatore che potrebbe avere delle pecche all'interno di questa rosa di Gregorio voto 9 perché per me lui quella uscita la deve fare perché se no è molto più facile prendere gol e io sono ancora convinto che lui l'abbia presa prima col ginocchio e poi eventualmente toccata sfiorata carezzata con il guanto non era facile perché era tutto molto veloce però quando poi entra un giocatore come Perin anche la presenza di uno come Di Gregorio anzi l'assenza di uno come Di Gregorio la senti decisamente meno perché Perin era e rimarrà un gran portiere e poi arriva lui il mister Tiago Motta tarantolato spiritato picchiato pure da gatti con una gomitata che si è gli ha fatto gonfiare tutta la fronte mister tu sei un passo perché io guardo le tue formazioni e ogni tanto dico ma non le capisco c'è in questa partita queste scelte ma davvero non me la sarei aspettata e poi alla fine c'ha ragione lui c'ha ragione lui quando una squadra che sta perdendo in Champions League con un uomo in meno riesce a rimontare e invece che cercare di portarsi a casa questo risultato in seguito magari a una partita anche complicata come questa dove ti buttano fuori il portiere perdi il difensore centrale di riferimento perdi l'esterno destro dopo dieci minuti hai quasi esaurito i cambi eccetera eccetera invece tu chiedi ai tuoi giocatori di andare a pressare di andare a lottare di tenere alto di tenere gli altri bassi di buttarsi negli spazi di cercare di farli uscire col palleggio di non buttare mai via la palla cioè vuol dire che tu hai una fiducia nei tuoi mezzi nelle tue idee e in quello che hai passato a questi ragazzi che è micidiale cioè il gol di Conseil Sao dove tutti vanno ad abbracciare Tiago Motta è un simbolo non è unblema in pochi giorni settimane mesi questo è entrato nella testa di questi calciatori e ad alcuni sta cambiando la carriera perché a me Kenny Gatti Fagioli non erano mica quelli che eravamo abituati a vedere lo stesso Locatelli che stasera non ha giocato è veramente un passo avanti importante che ha fatto con tanti giocatori che sono la Juve anche da tanti anni e che non ci sembravano poter rendere ad alti livelli poi sapevamo che con una nuova guida tecnica e un nuovo modo di intendere la partita ci sarebbero stati dei risultati ottimi nei confronti di alcuni giocatori che erano già stati etichettati troppo in fretta come giocatori non da Juve però un risultato così intanto veloce in una partita del genere con queste difficoltà ma ragazzi ma queste difficoltà avrebbero ucciso secondo me un bisonte ma non la Juve di Tiago Motta e quindi complimenti complimenti perché senza quello che ha trasmesso l'allenatore senza quelle che sono le idee dell'allenatore questa partita non solo non si vinceva ma manco si pareggiava perché le difficoltà sono state oggettive ed era facilissimo farsi trasportare dall'emozione all'interno di un vortice super negativo che avrebbe portato probabilmente a una serata di tutt'altro livello per la Juve quindi il migliore in campo per me è stato Tiago Motta senza se e senza ma signori queste erano le mie valutazioni spero che possiate aver apprezzato tra virgolette queste nuove pagelle un po' particolari io vi lascio qui sopra nelle schede anche la possibilità di accedere alla live reaction che ho pubblicato questa mattina fate un salto e godetevi queste emozioni perché oggi deve essere veramente una giornata di festa per tutto il popolo bianconero ciao a tutti ragazzi e forza Juve